ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti al tè verde il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa ingredienti sono farina integrale zucchero olio di semi tuorlo tè verde e zucchero semolato per decorare diamo il via alla ricetta siamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il tè verde e lo zucchero semolato e le facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale adesso aggiungiamo l'olio di semi e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 veniamo un po sul fondo adesso aggiungiamo la farina e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 adesso aggiungiamo le uova e facciamo amalgamare per altri 50 secondi a velocità 5 composto è pronto formiamo un panetto rivestiamolo con pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigo per un'ora trascorso un'ora abbiamo ripreso il nostro panetto lo abbiamo posizionato su un foglio di carta da forno mettiamo sopra un altro foglio di carta da forno e lo andiamo a stendere cercando di creare una sfoglia e lo spessore di un centimetro e muoviamo la carta da forno e con degli stampini formiamo i biscotti che passeremo da entrambi i lati nello zucchero semolato posizioniamoli su una teglia rivestita da carta da forno andiamo a formare un altro biscotto passiamolo nello zucchero semolato e proseguiamo così per il resto dell'impasto adesso inforniamo a forno preriscaldato a 170 gradi per 15 20 minuti i biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dalla teglia biscotti al tè verde grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti